Le indagini dei carabinieri della stazione di Termoli sono scattate dopo la denuncia di una ragazza di 18 anni residente in città. La studentessa aveva deciso di lasciare il suo fidanzato, ma lui non ha digerito la sua scelta, iniziando a pedinarla, a minacciarle, a creare quella sensazione di paura e di tensione che configura un atto persecutorio. Pochi giorni sono bastati ai militari per raccogliere informazioni ed elementi che hanno portato alla firma di un'ordinanza di custodia cautelare a carico di un giovane di 26 anni di San Martino in Pensilis. Messaggi sul telefonino, l'attesa a scuola e altre situazioni che hanno spinto la ex a presentarsi in stazione e a raccontare tutto ai carabinieri denunciando il suo presunto stalker. Le indagini sono sfociate nella misura cautelare a carico del 26enne, ma quando i militari del nucleo operativo di Termoli della stazione di San Martino si sono presentati, la situazione ha rischiato di degenerare. Per sfuggire all'arresto, il giovane ha preso una tannica di benzina e ha minacciato di darsi fuoco con un accendino. I carabinieri sono riusciti a bloccarlo per poi trasferirlo in carcere a Larino. Deve rispondere di atti persecutori, lesioni, minacce e danneggiamento. Nell'interrogatorio di garanzia potrà spiegare la sua versione dei fatti. Gli uffici della compagnia di Termoli, coordinata dal comandante Fabio Ficuccello, restano aperti per accogliere le eventuali denunce di tutte le donne di ogni età vittime di violenza o di altre situazioni di disagio.